a Perugia c'è anche un Plotrischi in battuta che può fare male parte Olle Plotrischi al servizio, lo riceve bene Ciccio D'Amico palla subito per Zavorano che va a segno in diagonale non riesce alla difesa del suo amico Olle Plotrischi, 1-0 per 1 abbiamo notato che tutti i due allenatori preferiscono a braccio sciolto per tutta la gara Dorozanova al servizio, difficoltà per Semino che ricezione palla alta per il polacco, gioca sulle mani ma c'è Mozici in difesa palla per Amin, fermato a muro da Russo, la tiene Verona grande secondo tocco in difesa di Zavorano che free ball per Perugia Giannelli gioca la palla ancora per Semenic, stavolta gioca sulla parallela Semenic va a segno e pareggia i conti ancora Mozic al servizio la tiene bene Max Colaci, in testa Giannelli, primo tempo vincente di Roberto Russo, insulta Max Colaci, la tira anche adesso la tira, stavolta il re del Fredo Leone, 22esimo punto per Verona, annullato il primo set point, esce Leone il servizio è un suo fondamentale di punto, vediamo se il boomerang fa effetto e invece Nastro ed Ace del Fredo Leone, Corugia arriva al set point, 24-21 Monza vince 1-0 a Civitanova, 6-5 punteggio per la Cucine Lube nel secondo set, intanto qui c'è il primo tempo di Russo e il muro, tetto di Leandro Mosca di mettere subito le mani nel campo avversario ancora Semenic la tiene bene, stavolta Mozic, chiamato anche in attacco, il pallonetto, viene fermato dal muro di Roberto Russo, Perugia prova a scappare subito, 6-2 resta Semenic gioca corta e fa un ace bellissimo gioca piazzata su Chetà, che è un po' in difficoltà palla alta per Amin no, palla, giocata da Perugia Kamil Semenic è fermato, però a muro da Amin così a partire da Rado Stoicev che è lì, intanto buona stavolta l'eccezione di Colaci palla per Bentara, fermato ancora a muro da Verona, che torna a meno 2 set completamente reperto corsa dell'Ucraino, che tira forte, la tiene bene D'Amico sempre palla in testa Luca Spirito, ma stavolta Gaeta contro il muro a 1 di Bentara non esce da muro Stoicevolo molto bravo in questo caso anche Bentara è stato bravissimo Bentara tira forte stavolta Bentara, il nastro, inganna Sani settimo punto per Perugia gioca la flotta su Flotlinski che la tiene bene Giannelli e Flavio, grande muro di Grosnov recupera un break Verona, stavolta inquisce le intenzioni di Giannelli Grosnov comunque Verona sta lì ancora sicuramente